Quest'anno a Farente, ancora una volta, noi normalmente quando partecipiamo ad eventi di questo tipo cerchiamo di portare con noi anche qualche elemento che faccia capire quali sono gli argomenti con i quali ci confrontiamo tutti i giorni. La tecnologia per noi è determinante, la tecnologia è normalmente un mezzo per raggiungere uno scopo e la capacità di affrontare bene l'approccio con le tecnologie ci consente di essere più veloci nel raggiungere i nostri obiettivi. Nel confronto con il mondo industriale, noi ad esempio nel settore delle costruzioni sentiamo forte il bisogno di utilizzare le tecnologie digitali questo ci ha portato a fare un bel passo all'interno delle tecnologie immersive sia nella fase di progettazione ma anche nella fase di gestione attraverso poi le applicazioni legate alle realtà aumentate.